te l'ha preso? si guarda che ti aspetta ce l'hai? questa confidenza non te la do guardalo 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 preso? tenete i piccini era buono? l'uomo dei piccini no dei gabbiani buongiorno è il nostro uomo? no è quello che pulisce qua le barche? no io porto i turisti a dare da mangiare i gabbiani costa tanto da mangiare i gabbiani dipende guardalo qua ma devo pagare il biglietto al parcheggio